17 secondi per dire domenica 7 ottobre 2013, osservatorio romano Gabriele Paolini in compagnia di un carissimo amico che non andiamo a citare per la sua privacy in Roma notturna, sono le 6 del mattino, stiamo aspettando il sole, 17 secondi per dirvi moneta, moneta, cazzo, mano, metti la mano, oddio, oddio, cazzo.